100, destra a 2 50, chicane, entra a destra 50, chicane, entra a destra 50, inversione sinistra 50, chicane, entra a destra 50, chicane, entra a destra Questa è più aperta 50, destra a 2 In sinistra a 2 Occhio a chiudere In destra a 2 50, chicane, entra a destra È più aperta questa 50, chicane, entra a destra È più chiusa 50, inversione sinistra 50, chicane, entra a destra È chiusa 50, chicane, entra a destra È chiusa anche questa 50, destra a 2 100, inversione sinistra 100, inversione sinistra Occhio che chiude fuori Ok, sempre così, 100 Destra a 2 50, chicane, entra a destra 50, chicane, entra a destra È aperta 50, chicane, entra a destra Anche questa è aperta Inversione sinistra 50, chicane, entra a destra È chiusa 50, chicane, entra a destra È aperta 50, destra a 2 In sinistra a 2 In destra a 2 Via 50, chicane, entra a destra È aperta 50, chicane, entra a destra È aperta Inversione sinistra 50, chicane, entra a destra È chiusa 50, chicane, entra a destra È chiusa 50, chicane, entra a destra 50, destra a 2 100 Inversione sinistra Inversione sinistra Inversione sinistra Via 100 Via 100 Destra a 2 50, chicane, entra a destra È aperta via 50 chicane tra destra aperta 50 versione sinistra 50 chicane tra destra chiusa 50 chicane tra destra aperta 50 destra 2 in sinistra 2 in sinistra 2 in destra 2 scusami 50 chicane tra destra aperta 50 chicane tra destra aperta inversione sinistra 50 chicane tra destra chiusa 50 chicane tra destra chiusa 50 destra 2 100 inversione sinistra via via 100 destra 2 50 chicane tra destra aperta 50 50 è chiusa 50 chicane tra destra aperta 50 destra 2 in sinistra 2 in destra 2 50 chicane intradestra aperta è aperta chicane intradestra aperta in versione sinistra 50 entradestra è chiusa questa 50 chicane intradestra è chiusa 50 destra 2 esco qua? si 100 esci